allora parliamo di canto l'importanza dello studio del canto e della sperimentazione vocale due mondi che fanno parte di un unico mondo quindi saranno dei piccoli accenni perché per ognuno di questi due discorsi si potrebbe stare qua a parlare non vi dico quanto ecco allora tanto mi scusate metto bene questo microfono che studiare canto è fondamentale per chi vuol cantare non è vero che non è importante non è vero che massita cavi non importa importante studiare piano studiare violino e studiare batteria ma canto no non è vero niente di più falso è fondamentale prima di tutto dico i miei punti di vista altri potranno come dire elencare diversi punti di diverse diversi motivazioni o in ordine diverso prima di tutto dal punto di vista tecnico la fondamentale la costruzione della tecnica vocale del cantato io non io personalmente non riuscirei a fare quello che faccio se non mi fossi costruita una tecnica vocale quindi diciamo delle cose anche tecniche piuttosto complesse complicate se non avessi delle basi tecniche non potrei farle o le farei a mio rischio pericolo cioè a rischio di farmi male ok farmi male a livello di corde vocali farmi male proprio a livello di voce ecco quindi è importante come tutela personale perché se io devo costruire la tecnica ok per poter cantare bene ed è importante per riuscire bene perché la giusta tecnica vocale il modo di usare il mio corpo perché ricordiamoci che il cantante lo strumento del cantante è se stesso ok il proprio corpo e non solo il corpo diciamo le proprie emozioni il proprio vissuto la propria interiorità qualcuno potrebbe dire la propria anima al di là dei punti di vista personali non è solo un fatto fisico ma è anche grandemente un fatto fisico ok fisico unito tutto l'aspetto emozionale a tutto un aspetto diciamo chiamiamolo metafisico ecco e ognuno ci metta dentro quello che gli pare però è vero è fatto di queste componenti qua che si abbracciano si uniscono e funzionano insieme lavorano insieme quindi dal punto di vista tecnico è fondamentale si vuole la tecnica vocale per cantare bene è fondamentale assolutamente e poi dal punto di vista non solo della tecnica ma dal punto di vista stilistico perché si possono conoscere c'è tanta buona musica nel mondo e nella storia purtroppo sempre più sommersa perché sappiamo che ai nostri tempi la maggior parte della roba che si ascolta è tutto il mondo commerciale è ciò che intrattiene è ciò che ciò che viene venduto da un'industria ok della quale io non ho nessuna stima personalmente però voi potrete anche dire chi se ne frega della tua opinione ma al di là che piaccia o non piaccia uno può anche esserne entusiasta ma non è tutta la musica che c'è anche se ne è entusiasta e ne gode ok però è importante andare a scavare è importante farsi una cultura il cantante è importante che abbia una cultura musicale che si acquisisce soprattutto con lo studio ok è fondamentale questo e poi dal punto di vista ripeto anche della scoperta di nuove possibilità e qui entro anche nel mondo della sperimentazione vocale io quando insegno canto mi piace e per me è fondamentale mettere dentro anche un come dire un aspetto sperimentale il lavoro sulla sperimentazione vocale che io faccio come artista io frequento e porto avanti un discorso di sperimentazione vocale anche teatrale e musicale sonora da da tanti anni ma lo metto anche e lo inserisco e lo consiglio anche a chiunque studi canto anche alle primissime armi a maggior ragione e anche non a maggior ragione scusate e anche a chi è già molto avanzato perché non solo per chi è interessato alla materia della sperimentazione perché uno può dire a me interessa tanto un altro può dirmi ma a me della sperimentazione non me ne può fregare di meno non importa non importa fare un pochino almeno di lavoro di sperimentazione vocale che ora non vi spiego nel dettaglio cos'è se no stiamo qua tre ore nel caso farò altri video comunque sull'argomento nel caso che è interessato mi chiede mi contatti serve per trovare nuove possibilità della propria vocalità sia a livello tecnico sia a livello creativo sia a livello di rilassamento si butta via al temore reverenziale per la canzone dove tanta gente si blocca tanta creatività va a morire e poi uno ne può usare anche solo ed esclusivamente e mi è capitato di proporlo a persone a cui non interessava nulla di poi frequentare fare lavori sperimentali come artista ma mi è stato detto poi confermato che è stato molto utile in fase di studio ecco io credo che cantare sia sia importantissimo io credo fermamente nell'espressività di se stessi e nel tirare fuori cose importanti di sé mediante l'uso della voce non ho nessuna stima del mondo dei talent della competizione che è sempre più quei coltelli affilati ai giorni nostri per chi arriva primo io canto contro di te faccio una cutone che ti ammazzo ti è cioè queste cose non fanno parte del mio background e non fanno parte della mia cultura e neanche delle mie passioni proprio zero al quoto e credo invece nel cantare e nello studiare una tecnica molto sviluppata e sicuramente che punta all'eccellenza ma proprio perché punta all'eccellenza non punta al commerciale all'eccellenza non vuol dire che uno deve avere l'ansia da prestazione perché diventare uno strafigo vuol dire che deve costruisce quella che è il meglio di sé della tecnica vocale e l'espressività troverà il suo stile troverà il suo linguaggio che più personale è meglio è una cosa importante prima di chiudere che voglio dire un'altra cosa che mi appartiene che è il jazz perché io sono cantante jazz anche e mi vi avrebbe da dire principalmente ma non voglio dare priorità una cosa piuttosto che un'altra è importante per chi ha uno studio già avanzato anche studiare jazz anche se poi desidera puntare a tutt'altri generi perché come per la sperimentazione vocale è un passaggio fondamentale per chi vuole essere molto preparato qui chiudo perché mi sono già dilungata troppo e a prossimi video e a contattatemi se volete farmi qualsivoglia domanda sul tema sui temi anzi buona giornata o buona serata o buonanotte